è tornato è tornato benvenuti su psq watches ragazzi bentornati a tutti quanti io sono pasquale e non do solo il benvenuto a voi ma appunto avete visto che è tornato il mio moon watch da un service e come avete letto dal titolo ho rotto questo orologio circa un mesetto fa e l'ho mandato a roma quindi a circa 500 chilometri di distanza da dove abito e ho dovuto spedire l'orologio ma voglio fare una chiacchierata con voi questo video sarà un video molto semplice voglio semplicemente parlarvi di una mia esperienza una brutta esperienza che comunque sia avuto un lieto fine volevo fare ieri un unboxing quando l'orologio mi è arrivato ma qualcuno ha aperto il pacchetto per me e quindi non ho potuto unboxare l'orologio e quindi questo video vuole essere appunto solo una chiacchierata voglio solo dirvi un po il mio feedback e partiamo dal principio ho rotto questo orologio mi è caduto dalla scrivania e il moon watch è l'orologio più importante della mia collezione non solo dal punto di vista proprio di traguardo raggiunto all'interno della mia collezione ma proprio anche dal punto di vista economico è l'orologio che ha richiesto più sacrifici è l'orologio che ha richiesto più tempo per essere acquistato e quindi romperlo dopo cinque mesi che l'avevo è stata una bruttissima esperienza intanto vi metto qualche immagine in modo tale che possiate capire che cosa è successo molto in breve ve lo spiego non sono un tecnico lo sapete però mi piace anche il lato meccanico però non sono super esperto sostanzialmente il movimento 321 861 comunque sia il base alle mania e ha un piccolo perno che tiene fermo quello che il martello di start e stop della cronografia dell'orologio quindi sostanzialmente c'è un piccolo perno che è piccolissimo tipo uno spillo che tiene ferma che aggancia il martello che start e stoppa l'azionamento potremmo dire del pulsante ad ore 2 non mi sono spiegato benissimo magari vi metto qualche clip c'è un video su youtube che fa capire cosa succede se non c'è questo perno all'interno del movimento e un danno tutto sommato molto lieve ma che appunto mi ha compromesso le funzionalità complete dell'orologio quindi ho dovuto necessariamente revisionare questo orologio e cosa ho fatto mi ritrovavo davanti ad una scelta abbastanza importante perché appunto parliamo di un orologio che costa tanto un orologio che il service costa tanto se poi ci sono altre parti rotte insomma se uno vuole fare un pacchetto completo costa parecchio fare una revisione e mi è costata abbastanza non tantissimo non come andare in omega perché magari mi avrebbero anche cambiato la cassa ma andremo un po per step vi spiegherò anche questa cosa e appunto il moon necessitava di una revisione mi sono voluto affidare forse già lo sapete a matteo colonna un ragazzo che avete visto qui tantissime volte su psq watches avete visto magari di più su instagram però mi pare di aver fatto anche una live con matteo e da subito c'è stata tanta intesa tanta sintonia e mi sono fidato di lui mi sono fidato di lui per tanti aspetti innanzitutto è una persona molto trasparente sul lavoro è un orologio che praticamente posta tutti i movimenti che sta revisionando fa vedere quello che sta facendo quindi ti fa capire effettivamente che ci mette le mani e ti fa capire magari alcuni dettagli che appunto si vedono nelle sue storie ti fa capire alcuni dettagli dei movimenti quindi questo in un certo senso ti fa sentire un po più in una situazione di comfort perché dici ok faccio una parentesi matteo comunque principalmente fa revisioni su orologi di lusso quindi questo è un altro piccolo ecco plus che ti fa stare tranquillo quando mandi in revisione un orologio da una persona esperta e però il fatto che lui metta tutte queste foto su instagram ti fa capire che effettivamente lui è dentro il suo lavoro sa quello che sta facendo e quindi in qualche modo ti sentire assicurato in più il fatto che sia così attivo ti fa capire realmente quanto lui sia appassionato a questo mondo e poi facendoci anche quella live parlandoci diverse volte è venuto fuori tante volte il suo aspetto da appassionato il suo vero lato da appassionato parlando diverse volte andate via recuperare la live ragazzi secondo me è molto interessante perché matteo parla per tantissimo degli orologi da tasca ci spiega tantissime cose su quel mondo perché lui inizia tutta lì ed è un mondo un sacco affascinante anche su instagram seguitemi se non lo fate perché anche lì posto le live e mi pare che abbiamo fatto una live di recente che trovate salvata sul profilo quindi dateci un occhio se vi va e quindi per tutti questi aspetti mi sono voluto fidare di lui piuttosto che andare dall'orologiaio sotto casa che fa tutto e non fa niente in più un altro aspetto secondo me fondamentale che purtroppo necessitava il mio orologio era una lucidata della cassa perché l'orologio cadendo si era leggermente ammaccato ma matteo è riuscito a fare un lavoro incredibile sull'ansa che si era leggermente rovinata fa lavori molto 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 più impegnativi questa fortunatamente era una botta piccola nonostante l'urto è stato veramente forte ragazzi mi è caduto dalla scrivania e dal rumore pensavo di averlo disintegrato non volevo neanche girarlo quando mi è caduto fortunatamente l'orologio continuava ad andare funzionava tutto quanto c'era questa piccola botta e appunto questo pernino che si era spezzato che ferma il martello che purtroppo andava sostituito quindi andava fatto un service e quindi mi sono fidato di matteo però c'è un limite matteo è a 500 chilometri da casa mia matteo sta a roma e quindi arriviamo al vero scoglio no al vero problema che abbiamo quando dobbiamo mandare un orologio lontano un orologio poi importante per noi spedire l'orologio io ragazzi vi dico che parte matteo mi ha dato suggerimento ma comunque sia quello che abbiamo fatto è quello che secondo me è la cosa migliore da fare una bella spedizione assicurata con un corriere affidabile ce ne sono tantissimi ragazzi non c'è bisogno che vi dica io i nomi lo sapete benissimo io per esempio ho utilizzato ups mi sono trovato veramente veramente bene e ho speso neanche tantissimo per fare l'assicurata e e ho preferito spendere qualcosina in più fare l'assicurata ma almeno sono stato un po più tranquillo considerate che in 24 ore è arrivato a roma e da roma a casa mia è tornato in 24 ore quindi da quel punto di vista sono stato abbastanza tranquillo ho comunque spedito altri orologi importanti nella mia vita però non così importanti come il moon ma più che per il lato economico proprio per quello affettivo no perché devi lasciare l'orologio più importante che in collezione l'orologio che come dicevo prima ti ha richiesto più tempo più sacrificio e tutto quanto e quindi un po ti pesa ti pesa parecchio quindi questa vuole essere una chiacchierata solo per dirvi che potete farlo ragazzi potete farlo potete stare tranquilli lo so è un momento difficile magari se vi succede però affidatevi a persone esperte a persone affidabili che fanno lavori concreti che postano sui social sulle loro pagine facebook che mettono foto vi fanno capire realmente quello che fanno perché non affidatevi all'orologio vicino casa solo perché magari vi fa un buon prezzo oppure qualsiasi altro motivo perché adesso arriviamo al vero punto importante vero come è venuto il lavoro starete già vedendo qualche clip forse non lo so magari li metto da adesso e matteo ha fatto un lavoro incredibile non ho tante foto di background soprattutto del bracciale perché non l'ho mai utilizzato tanto ma non l'ho mai utilizzato tanto perché non ha mai avuto questo aspetto matteo ha fatto un lavoro davvero incredibile sul bracciale davvero davvero buono e sulla cassa anche è riuscito a rimuovere tutti i segni che c'erano e in più ha davvero satinato e lucidato la cassa in maniera perfetta veramente veramente ha fatto un lavoro incredibile anche da quel punto di vista dal punto di vista meccanico non sto neanche a dirvelo ragazzi seguite matteo perché secondo me è veramente bravo e posta patec posta orologi molto complicati ma fa anche orologeria diciamo entry level se lo vogliamo definire così e ed è super preciso quindi dal punto di vista meccanico ero più che tranquillo era proprio la questione della cassa il bracciale da rifare insomma tutto quel lato estetico che comunque compone anche l'orologio che un po mi preoccupava però matteo ha fatto davvero un lavoro incredibile secondo me è meglio affidarsi a qualcuno che sta un po più lontano ho fatto una bella spedizione assicurata però il risultato finale almeno è soddisfacente ne vale la spesa ne vale il sacrificio di restare magari qualche giorno in più senza orologio però siete un po più sicuri poi matteo comunque sia in genere posta foto di quello che sta appunto smontando e revisionando e quindi ho avuto il privilegio di vedere il mio orologio completamente smontato sul banco di un orologioio cosa che magari se l'avessi mandato all'orologio vicino casa non sarebbe successa non avrei mai ricevuto le foto un altro piccolo appunto per dire e per fare un po di pubblicità matteo perché secondo me se la merita è un video ripeto non ho scritto nulla è tutto molto molto semplice molto spontaneo un'altra cosa molto che mi ha fatto notare matteo era la spirala del bilanciere che si era leggermente piegata e l'ha risolto chiaramente come problema l'orologio adesso marcia in maniera perfetta non sappiamo sia dovuto all'urto però io non mi sono mai accorto di nulla quindi questa è un altro un'altra cosa che prima dell'urto magari l'orologio aveva già la spirale piegata per x motivi perché il mio orologio del 1997 quindi ha praticamente 25 anni alle spalle di vissuto e non so se era stato revisionato oppure no comunque sia l'orologio marciava bene ma appunto avendo questi questo piccolo difetto che magari io non mi sono mai accorto capite che poi la salute dell'intero orologio è leggermente compromessa e quindi sicuramente fare un service agli orologi conviene conviene sempre perché appunto ci possono essere anche queste piccole cose che magari a noi ad occhio durante l'utilizzo quotidiano non cambia nulla però poi se vai sulla carta se vai sul tecnico vai a mettere l'orologio sul crono comparatore ti rendi conto che effettivamente ci sono dei problemi all'amplitudine a quello che è il bit error insomma capisci che c'è un problema a quello che è l'organo regolatore dell'orologio e non va bene ragazzi non va bene perché gli orologi sono delle macchine e devono essere delle macchine il più possibile perfette se vogliamo che l'orologio mantenga bene il tempo che sia performante e soprattutto che poi magari in un momento di vendita mantenga un buon prezzo sul mercato perché un orologio può essere anche bellissimo esteticamente è raro ma se meccanicamente da tanti problemi alla fine è un oggetto sostanzialmente inutile quindi mantenete le meccaniche revisionate perché secondo me è molto importante da questo problema ho imparato questa lezione e quindi vi dico anche questa scusatemi per il video lunghissimo un video sfogo detto questo ragazzi come sempre vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale quindi iscrivetevi commentate condividete lasciate un mi piace sotto a questo video fatemi sapere un po' delle vostre esperienze ditemi se vi è successa una cosa simile e raccontatemi un po' quello che appunto provate no? che avete provato magari vivendo una situazione analoga alla mia seguitemi sui miei social Instagram e Facebook entrate nel gruppo Telegram in più seguite Matteo Colonna e in più contattatelo se siete interessati per fare una revisione e detto questo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video spero vi sia piaciuto questo contenuto più libero non scritto, non pensato, fatto e basta volevo semplicemente portarvi questa mia esperienza confrontarmi con voi, come sempre lo sapete lo faccio anche per questo e basta fatemi sapere se vi piacciono questi contenuti che se vi interessano contenuti un po' più leggeri, un po' più veloci li faccio più che volentieri e noi ci vediamo come ho già detto ad un prossimo video grazie alla visione grazie a tutti